Nel corso delle prossime puntate della serie televisiva Endless Love, il dramma si intensifica attorno alla figura di Emir, il quale si trova di fronte a una scelta cruciale che potrebbe alterare il corso della sua vita. La possibilità di diventare padre si presenta a lui una volta di più, ma, come già in precedenza, Emir sceglie di declinare questa opportunità. La decisione non arriva facilmente, poiché comporta delle ripercussioni significative non solo per lui, ma anche per Zeynep, la donna che porta il suo bambino. Nel tessuto complesso delle vicende di Endless Love, Zeynep emerge come una figura astuta e calcolatrice, utilizzando la sua gravidanza come strumento strategico per cementare la sua influenza su Emir. Consapevole del potenziale impatto emotivo e sociale di tale notizia, Zeynep ha cercato di manipolare Emir a suo vantaggio, sperando di ottenere una posizione di maggiore potere e sicurezza all'interno della loro complicata relazione. La gravidanza, un evento che spesso porta gioia e nuova vita, diventa nel loro contesto un pedone in un gioco di scacchi pieno di calcoli e manipolazioni. Tuttavia, la reazione di Emir a questa tattica di Zeynep dimostra quanto sia complessa e imprevedibile la natura umana. Sebbene abituato a dominare e controllare gli eventi che lo circondano, Emir si trova profondamente frustrato e irritato dalla situazione creata da Zeynep. Questa reazione svela un lato vulnerabile di Emir, mostrando che anche un uomo di potere può sentirsi sopraffatto e stanco di fronte a manipolazioni continue e giochi di potere, specialmente quando provengono da qualcuno molto vicino a lui. La decisione di Zeynep di usare la gravidanza come mezzo di pressione aggiunge una nuova dimensione di tensione e dramma alla loro relazione già tempestosa. Emir, che ha sempre gestito gli affari con una mano ferma e spesso senza scrupoli, si ritrova a dover riflettere sulle proprie azioni e sulle ripercussioni che queste possono avere sulla sua vita personale e su quella degli altri. Il suo crescente disagio e la reazione a queste manipolazioni mettono in luce la sua crescente frustrazione verso un gioco che sembra sfuggire al suo controllo. Mentre Emir contempla le sue opzioni e le possibili vie d'uscita da questa situazione complicata, Zeynep attende con ansia, sperando che le sue azioni possano finalmente garantirle la sicurezza e il riconoscimento che desidera. Ma con ogni mossa calcolata, il rischio di un contraccolpo cresce, minacciando di distruggere il fragile equilibrio di potere che entrambi hanno cercato di mantenere. In questo gioco di manipolazioni e segreti, ogni decisione ha il potenziale di portare a conseguenze irreversibili, rendendo la trama ancora più avvincente e imprevedibile per Gil e gli spettatori. In uno scenario teso e carico di emozioni forti, Emir prende la decisione estrema di porre fine alla gravidanza di Zeynep. Per eseguire questo piano si rivolge a Tufan, suo amico fidato e complice di lunga data. Tufan è incaricato di accompagnare Zeynep dal medico di fiducia di Emir, un professionista che già in passato ha eseguito azioni simili per lui, dimostrando discrezione e lealtà. Il compito affidato a Tufan non è semplice. È un incarico che porta con sé un peso morale e etico notevole, sollevando questioni sulla lealtà, l'amicizia e i limiti della moralità. Tufan, pur sentendosi in conflitto con la richiesta di Emir, sa che rifiutare potrebbe significare mettere a rischio la propria posizione e sicurezza, dato il potere e l'influenza che Emir detiene. La trama si complica ulteriormente quando Zeynep, una volta a conoscenza del piano di Emir, reagisce in modo imprevedibile. La sua disperazione e la paura di perdere il bambino potrebbero spingerla a prendere decisioni drastiche, che potrebbero cambiare irrevocabilmente il corso della storia. Questo nuovo capitolo di Endless Love promette di essere ricco di colpi di scena e rivelazioni, dove ogni personaggio dovrà affrontare le conseguenze delle proprie scelte e dove i segreti, una volta sepolti, verranno inevitabilmente portati alla luce, tessendo una rete di destino e desiderio che nessuno può prevedere. Le vicende amorose di Emir, tra matrimonio e relazioni segrete Nonostante il matrimonio con Nihan, Emir ha mantenuto numerose relazioni extraconiugali, tra cui quella con Banu. Questi intrighi amorosi sono stati oggetto di chiacchiere e scandali, ben documentati dai giornali di gossip, ma Nihan è rimasta apparentemente indifferente, non avendo mai nutrito sentimenti veri per il marito. La situazione si è complicata ulteriormente quando Emir ha scoperto che Banu era incinta. Di fronte a questa notizia inaspettata, Emir ha reagito con freddezza, esigendo un aborto, nonostante il tempo per poterlo fare legalmente fosse già passato. Non arrendendosi, ha incaricato Tufan di portare Banu dal medico per tentare comunque l'interruzione della gravidanza. Il sospetto e la scoperta di Nihan? Successivamente, Emir ha intrattenuto una relazione segreta con Zeynep, iniziata più per sfida verso Kemal che per vero interesse. Tuttavia, anche questa relazione ha portato a conseguenze impreviste, con Zeynep che è rimasta incinta. La giovane ha immediatamente informato Emir, sperando di utilizzare la gravidanza come leva per mantenere il suo controllo su di lui, particolarmente perché non desiderava che Nihan scoprisse il loro legame. Nel corso degli episodi, una serie di coincidenze porteranno Nian a sospettare che Zeynep possa essere l'amante di suo marito. Nian tenterà di smascherare Zeynep, ma sarà salvata in extremis da Emir. La decisione radicale di Emir e il compito affidato a Tufan? Emir, trovandosi di fronte a una situazione sempre più critica e complicata con Zeynep, si rende conto che le azioni della ragazza stanno minacciando non solo la sua stabilità personale, ma anche il suo matrimonio con Nihan. La gravidanza di Zeynep, utilizzata come uno strumento di pressione e ricatto, lo spinge a prendere una decisione drastica, simile a quella già presa in passato con Banu, una delle sue precedenti amanti. Convinto che l'unico modo per liberarsi di questo nuovo peso sia replicare la soluzione adottata precedentemente, Emir chiama a sé il suo fedele collaboratore Tufan. Nel cuore della notte, in un incontro segreto e carico di tensione, Emir espone il suo piano a Tufan, richiamando alla memoria il servizio che l'uomo aveva già svolto per lui in passato. «Ricordi come hai risolto il problema con Banu?», gli chiede con tono severo, assicurandosi della sua discrezione e della sua efficienza anche questa volta. «Spero tu sia pronto a fare lo stesso ora per Zeynep. È importante che agiamo velocemente». Dettagliando le sue istruzioni, Emir specifica che Zeynep deve essere portata dallo stesso medico che aveva curato il caso di Banu e che l'operazione deve essere eseguita con la massima urgenza e riservatezza. «Organizza tutto come la scorsa volta e assicurati che la ragazza non sospetti nulla fino all'ultimo momento», aggiunge, sottolineando la necessità di agire con prudenza. Tufan, ascoltando le parole di Emir, non può fare a meno di ricordare quel giorno triste e pesante in cui aveva accompagnato Banu al consulto medico. Le immagini di quella giornata lo tormentano ancora. La disperazione e le lacrime di Banu, che aveva capito di essere solo un pedone nel gioco di potere di Emir, erano state un duro colpo anche per lui, che si era trovato costretto ad agire contro i propri principi morali. Questo ricordo amaro lo rende reticente all'idea di dover ripetere un'azione simile con Zeynep, una ragazza che, nonostante i suoi giochi manipolativi, sembrava veramente credere che Emir potesse offrirle un futuro. La consapevolezza del dolore che avrebbe causato, e il ricordo indelebile delle conseguenze della sua precedente complicità, lo mettono in uno stato di profondo conflitto interiore. Tuttavia, legato da una lealtà quasi cieca verso Emir e conscio delle possibili ripercussioni di un rifiuto, Tufan accetta con riluttanza di eseguire l'ordine, preparandosi a organizzare un altro incontro destinato a cambiare irrevocabilmente la vita di un'altra donna. Il peso della decisione e la responsabilità di tali azioni continuano a gravare sulla sua coscienza, mentre si dirige verso il prossimo passo di questo piano oscuro e doloroso. Secondo te Tufan potrebbe essere il fratello segreto di Emir? Scrivilo nei commenti sotto al video. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Endless Love.